Si è svolta presso il CUS di Bari la prima edizione della regata trofeo Andrea Scalera. Andrea Scalera, 37 anni, ha perso la vita in mare mentre faceva kitesurf nel novembre 2013. Il centro universitario sportivo ha condiviso con la famiglia di Andrea la volontà di dare vita ad un evento con una doppia finalità agonistica e sociale, tramite una raccolta fondi in favore della Onlus Emergency, il servizio. 51 le imbarcazioni scese in acqua domenica per la prima edizione del trofeo Scalera. Mare calmo e un vento debole direzione sud-est hanno accompagnato gli equipaggi che hanno deciso di partecipare alla manifestazione organizzata dal CUS Bari. Andrea Scalera, 37 anni, ha perso la vita in mare mentre faceva kitesurf nel novembre 2013. Dopo le veleggiate per ricordare il giovane amante del mare nel 2014 e nel 2015, il centro universitario sportivo ha condiviso con la famiglia di Andrea la volontà di strutturare l'evento con una doppia finalità, agonistica, istituendo il trofeo, e sociale tramite una raccolta fondi in favore della Onlus Emergency. Quest'anno, con i fondi raccolti per la regata, sarà acquistato un generatore elettrico che andrà ad alimentare il nuovo progetto Elfbox. Il progetto Elfbox, ha spiegato Giuseppe Seccia, presidente del CUS Bari, presentato alla quindicesima biennale di architettura di Venezia, è un'unità mobile che verrà impiegata nelle situazioni tipiche dei mezzi mobili, quindi periferie, disastri naturali, sbarchi e centri di accoglienza. Il trofeo è stato conquistato da Giuseppe Chiaravolo con l'imbarcazione Obelix del CUS Bari. Invece, a Natale Lattanzi, con l'imbarcazione Dezzamore del circolo velico Onda Buena, è andato il trofeo Challenge.